Complimenti per il suo sinistro sul calcio di rigore, possiamo sperare in un film prossimamente, nei prossimi diecenni, con il calcio come un elemento più centrale, come il bellissimo Uomo in più? Ma insomma, è proprio oggi una domanda del genere, veramente... Lei non doveva farla questa domanda, perché è stata esclusa dal nostro tempo, era fuori tempo massimo questa domanda, ed era giusto così, perché proprio oggi, infortunio nel nostro centroavanti, il sfondamento veramente è durissimo, un momento durissimo. Penso che serva direzione a tanti napoletani che hanno buttato tante bestemmie su Higuain e ci sono tornati addosso proprio in una maniera così potente che hanno fatto sì che il nostro centroavanti si facesse male per quattro mesi, ecco, questa è una condizione forse epocale per la città di Napoli e per tutti i suoi riti scaramantici, fino a finiamo di credere nel vitello d'oro da adorare, ma più in una squadra, in un collettivo, una squadra che vuole, che ha Sarri in mente. Io, no, guardi, il calcio per me è come il cinema, è bellissimo vederlo, è bellissimo giocarlo, ma è noiosissimo parlarne, quindi non ho nulla da dire.